DJ Chiama Italia DJ Chiama Italia Let's go to the star and let's go to the car I wanna kiss you underneath the star Stringi, stringi Chris, stringi Parla Chris, ti sentiamo Non si sente niente C'è che non parla? Cos'è che volete? E' uno scoop, amici di Radio DJ parliamo con il regista video del programma DJ Chiama Italia Come ti trovi con noi Chris? Eh? Come ti trovi con noi? Malissimo, non vedo niente Ok, ciao! Senti Chris, una cosa al volo Ti risultava quella vicenda australiana che stavo raccontando sul signor Dunlop? Mi cogli impreparato Linus 1800 un po' troppo presto per me Chiedi a tua moglie Come 1800? No, vabbè, la roba di Dunlop che dicevo io di pochi anni fa Ma Mario De Santis invece ne sa una più lontana giusto? Esatto, sì, una più lontana Cercando qualcosa su questo famoso matrimonio ho trovato che in realtà Il fondatore della Dallop Il fondatore della Dallop era un signore che Oddio adesso ho trovato un'altra cosa Ma raccontala come la raccontavi a me prima Non guardare qua No, esatto, perché l'ho presa al volo Comunque che aveva un... Era un veterinario che aveva un... Un bambino di tre anni che aveva il triciclo E per aiutare questo bambino di tre anni col triciclo a non rompere le ruote di metallo Immagino fosse di legno Inventò la camera d'aria Si inventò una cosa... Il veterinario, ho capito Il veterinario però si industriò... Che scintillo Me lo prendi papà Questa cosa di te che consulti il computer Mi fa venire in mente un signore che conosco Un signore molto perbene tra l'altro Che è un grande appassionato di sport Di tennis in particolare Però ogni volta che ci parlo di tennis appunto in televisione Gli dico ma chi è che ti piace come commentatore? Lui odia tutti quanti quelli nuovi Perché dice che secondo lui è troppo facile fare il telecronista ai giorni d'oggi Perché? Che tu sei a casa e hai... Anzi sei in studio e hai il computer davanti E quindi se tu commenti il Tour de France E passa Zandegou Certo, certo Che ovviamente corre ancora E gareggia ancora Tu in tre secondi sai chi è, dove è nato, cosa ha fatto, quanto ha vinto Oppure commenti gli incontri di calcio E di ogni giocatore sai quante partite ha segnato Sì sì è vero Vabbè insomma sono aiuti che arrivano dal computer Sì però posso dire non a difesa Ma insomma parziale giustificazione Che la telecronica di quel signore lì era molto più lenta E doveva dare un decimo delle informazioni Che danno i telecronisti oggi che non potrebbero La canzone appena ascoltata Chi chiudiamo il cerchio di John Legend Si intitola con una sigla Puntata proprio come FBI Cioè PDA Che potrebbe essere Personal Digital Assistant Cioè in sostanza il computer portatile Allora 10 e 21 Possiamo fare le tre notizie più belle? Le tre notizie più belle! Perché insomma noi alla mattina Durante la riunione commentiamo un po' i giornali Ho chiesto che ci fosse con noi anche Stefano Monticelli Per fare che cosa? Niente Niente Contempla Contempla Noi facciamo le notizie È già la seconda volta che mi chiamate Non mi vede che sono qua a fare niente Non ti preoccupare Ci fa sentire bene Stai qua Ci fa sentire bene Allora le tre notizie più clamorose se vogliamo La prima arriva dagli Stati Uniti George W. Bush Dopo il fallimento della guerra in Iraq Correggimi se sbaglio Mario Non è ancora fallita Però diciamo è sulla buona strada Sì insomma deve recuperare un po' e soprattutto nel suo paese comincia a sentirsi la crisi petrolifera Il consumo di energia comincia a farsi insomma sentire Se non fosse perché le utilitarie sono 5.000 di cilindrata Esatto Ieri sera praticamente La smart è un portachiavi Stanotte c'è stato il discorso famoso Discorso sullo stato dell'unione E tra le altre cose Bush ha detto bisogna consumare meno benzina Ma come bisogna consumare Ma come Che è un po' per rendere un po' meglio l'idea È come se lui avesse cercato O uno avesse cercato un giorno Di impadronirsi di un benzinaio Di un benzinaio Il benzinaio ha risposto Dice Rignola E vedi che se non te ne vai ti do 4 schiaffi Il primo è questo Il secondo è questo E il terzo è un gaccio nelle palle Anche Bush è tornato a casa dalla moglie E ha detto Amore forse è meglio che consumiamo meno benzina Esatto Dopo averle prese di santa ragione Rende l'idea credo Rende un po' l'idea Ma prima che ci tacciate di anti-americanismo Assolutamente no Per la par condicio Ma che cazzo si fumano nel nostro A rifondazione comunista Non so se fumano extracomunitario o comunitario Secondo me extracomunitario Ma è la presenza di Caruso E' afgano Che visca un po' le carte Che cosa è successo? La notizia di oggi Che c'è una proposta di rifondazione comunista Affinché il cinema venga protetto Il cinema italiano E ci debba essere una legge Per la quale si potranno proiettare Nelle sale cinematografiche Ma anche in televisione In percentuale uguale Soltanto film Uno americano O perlomeno uno internazionale Ecco uno internazionale Uno comunitario E uno italiano Quindi Quindi Come? Cosa? Cosa vuoi? No mi è venuta in mente una cosa Ve la dico dopo Va bene Perché pensavo di parlare con Monti Anche secondo me E quindi Per legge Noi non potremmo più vedere Tanti bellissimi film americani Ma vedremo tanti meravigliosi film italiani E' evidentemente Una stupida Il luogo La maggior parte dei registri intervistati Quelli con un po' di spessore A parte Neri Parenti Soltanto Neri Parenti appoggia la proposta Neri Parenti ha così commentato Olè! Anche se non lo so Olè! Non sono sicuro Perché per esempio Con questa legge Neanche il film di Monicelli Sarebbe italiano Perché? Perché è stato girato Maestranze straniere E a parte Gli attori E neanche tutti Il resto erano tutti E poi due cose Ma se il manifesto Tutto il giorno Continua a consigliare Filmi iraniani Coreani Ginkiduk Naturalmente Ho consigliato Virpah Ho consigliato Ginkiduk Naturalmente Kiruzawa Agiragirosawa E poi è come se Uno per legge Per continuare con il gioco Delle metafore Ci imponesse Che nelle barzellette Non possiamo più dire Un italiano Un tedesco Un francese Ma un italiano Un comunitario Un comunitario E un extra comunitario Ma per legge Oh c'è un po' di creatività Quindi Chiediamo con l'ultima notizia La più bella di tutte Ma che è importante Lasciamelo dire collega Che però mi toglierà il sonno Fino al 5 di febbraio Perché? Perché il 5 di febbraio Uscirà l'album Delle figurine Dei VIP Ideato da quel genio Sì Genio del male Che è l'Elemora Sì E quindi come Per tanti anni Io mi sono preoccupato Poi ormai penso Di averla scampata Di ricevere la convocazione Per andare ospite All'isola dei famosi Non ospite Concorrente All'isola dei famosi Sarebbe stata per me L'umiliazione estrema Certo Lì ormai Spero che non mi chiamino più Il terrore è Ci saremo O non ci saremo Qui dentro Beh non lo so Io credo che un posto Tra i posti Io l'ho visto che c'è Aida Iespica C'è C'è Ringo C'è Valeria Marini C'è Naike Rivelli La figlia di Onella Mut Io ti dirò Tra Naike Rivelli E Aida Iespica Ci starei Diciamo come sempre Poi vedi un po' tu Insomma A me non ti spiacerebbe Anche solo Come figurina Fino al 5 febbraio Io non ci dormo DJ chiama Italia DJ chiama Italia DJ chiama Italia Gli chiama chicka eh 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 he eh eh Gli chiama Gli chiama Gli chiama Grazie a tutti